Il Lions Club Arezzo Mecenate e la Croce Rossa insieme per la prevenzione del diabete. In piazza San Jacopo ad Arezzo una giornata informativa e non solo per tutta la cittadinanza in occasione della giornata mondiale contro il diabete, patologia che registra un aumento vertiginoso dei casi. Gli aretini hanno potuto effettuare un primo test e la misurazione della pressione arteriosa e acquisire soprattutto tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo gli indicatori principali del diabete. Dimagrimento eccessivo ed improvviso, tanta sete, necessità molto frequente di andare in bagno e spossatezza. Il diabete sta colpendo una fascia sempre più ampia della popolazione. Giornate come questa sono indubbiamente necessarie per puntare l'attenzione su un nemico silente ed estremamente subdolo della nostra salute che ha purtroppo come alleati gli scorretti stili di vita.